Nel fine settimana il numero dei tamponi processati è sempre basso, quindi i dati di lunedì vanno analizzati con prudenza e comunque erano incoraggianti. Una tendenza confermata ieri, martedì, è consolidata oggi. Il rapporto tra tamponi effettuati e positivi continua a diminuire. In Lombardia oggi è arrivato al 12,2%, ben lontano dai picchi delle scorse settimane, vicini al 25%. Si contano 5.173 nuovi positivi a fronte di 42.000 tamponi. È il motivo che probabilmente ha spinto i vertici della Lombardia, il presidente Atilio Fontana e l'assessore al welfare Giulio Gallera, a dichiarazioni ottimistiche nelle scorse ore sulla progressiva riapertura della regione. Altri due dati sono positivi e incoraggianti. Il numero dei guariti o dimessi, quasi 16.000 in 24 ore, ma anche i ricoveri nei reparti ordinari, meno 246. Sono invece due gli indicatori ancora preoccupanti. Tornano a salire, più 10, i ricoveri nelle terapie intensive e si aggiungono 155 decessi, il cui numero complessivo dall'inizio della pandemia passa a quota 21.000. Milano a parte, i quattro territori più colpiti dai nuovi contagi oggi sono Varese, 463, Brescia 391, Como 376 e Monza 369.